Tra le varie routine che nel tempo ho adottato e che compongono la mia giornata, la meditazione è sicuramente quella che mi ha cambiato di più in profondità e ora voglio spiegarti perché dal punto di vista scientifico. Molti anni fa, quando ho iniziato a interessarmi alla prestazione umana, in particolare la prestazione sportiva, ancora quando ero ragazzo, quindi prima di iniziare a studiare medicina, ero incappato in qualche modo nelle tecniche di meditazione e nelle tecniche di visualizzazione utilizzate dagli atleti proprio per riuscire a focalizzare la concentrazione e quindi ad aumentare la loro prestazione. Era un ambito che mi aveva interessato ma ero rimasto in qualche modo un pochino scettico, forse poi il mio scetticismo era addirittura aumentato quando laureandomi in medicina mi sono molto concentrato sugli aspetti fisici, biochimici, sulla realtà materiale del miglioramento della prestazione e in qualche modo quel capitolo era rimasto un po' in disparte. Poi mi ci sono riavvicinato tanti anni dopo e ho scoperto con mia grande sorpresa che in realtà il mio scetticismo era fuori luogo ed era quello scetticismo completamente ascientifico. In altre parole mi sono reso conto che la ricerca sulla meditazione, su tutte le tecniche di miglioramento della prestazione mentale non è che mancasse, anzi era una ricerca molto interessante e ben strutturata con una storia un po' particolare perché è una ricerca che è rimasta quasi secondaria e un po' un po' in ombra per molto tempo soprattutto perché i primi ricercatori che si erano occupati di questo magari psicologi neuroscienziati erano però persone che avevano sperimentato direttamente in India, in Asia queste tecniche venivano visti dagli scienziati occidentali un po' come dei personaggi strani non particolarmente affidabili. Ma mano a mano che queste ricerche sono state pubblicate e che altri poi hanno dato un taglio ancora più scientifico, medico, concreto alla pratica della meditazione, questa tecnica antichissima è stata poi completamente sdoganata anche sul piano scientifico. Quindi oggi sappiamo che la meditazione serve a generare uno stato di calma, di maggior consapevolezza, di minor tensione che l'uomo moderno necessita profondamente. Sappiamo che la meditazione contribuisce a cambiare l'equilibrio tra le onde cerebrali e a spostarci da quelle onde che sono tipicamente espressione di tensione, di attività, di concentrazione sul fare, a quelle onde che forse sono un po' più espressione di una concertazione interiore sull'essere invece che appunto sul fare. Quindi nel tempo anche la mia posizione forse un po' ingenua mi ha fatto capire che la vera scienza, quella scienza che va un po' oltre l'ovvio e lo scontato, era in realtà in grado di studiare abbastanza approfonditamente la tecnica della meditazione. E io credo che dobbiamo capire che forse una delle cose di cui oggi l'uomo moderno nella società occidentale in particolare ha più bisogno è proprio quella, è proprio quello di fare un lavoro più approfondito su se stessi per riuscire a cambiare la propria prospettiva, direi veramente sulla propria esistenza, mi viene da dire diventare capaci di vedere tutto ciò che abbiamo invece che di concentrarsi, come troppo spesso facciamo, sulle cose che ci mancano. E mi concentrerei su due aspetti che si raggiungono, due risultati che si raggiungono attraverso una pratica costante della meditazione che sono uno un po' più superficiale, se vogliamo così dire, che è la riduzione dello stress. La meditazione è una di quelle pratiche che possiamo inserire nella categoria più ampia di tecniche di rilassamento che ci permette di gestire meglio lo stress. Siccome sappiamo che tutti noi oggi siamo esposti a un grado di stress cronico eccessivo, è evidente che inserire 5-10 minuti di meditazione al giorno è sicuramente una modalità utile per abbassare i livelli di stress che tra l'altro sempre la scienza e la ricerca connettono con tante patologie tipiche del mondo moderno. Ma il secondo risultato forse anche più interessante se vogliamo e più profondo è uno sviluppo, una amplificazione della nostra consapevolezza, ossia una rinnovata capacità di vedere se stessi, di vedere la vita, di vedere gli altri, una creazione di un nuovo punto di vista che appunto ci permette di essere un po' più focalizzati su quello che abbiamo invece che su ciò che ci manca, essere un pochino più grati, essere più predisposti al perdono, essere più capaci di vedere ponti che ci uniscono invece di muri che ci separano, diventare meno portati a vedere tutto come bianco e nero, come amici nemici, come giusto sbagliato, sentirsi un po' più parte di un tutt'uno e anche se queste caratteristiche sono più difficili da identificare sul piano materialistico, concreto e quindi anche meno definibili dal punto di vista scientifico, sono anche queste ormai confermate da tanti studi che hanno osservato e studiato in maniera approfondita i cambiamenti che avvengono in quelle persone che imparano a meditare ma ancora di più che usano la meditazione quotidianamente nella loro vita. Una cosa interessante è che inizialmente, esattamente come un allenamento fisico, la meditazione interviene sulla fisiologia momentanea e quindi cambia il nostro stato momentaneo, ma a forza di sviluppare una dimestichezza nel cambiare stato, la meditazione ci aiuta a sviluppare nuovi tratti e questa è una cosa molto interessante che è esattamente analoga a quello che accade nell'allenamento fisico. Io altero il mio stato momentaneamente ma a forza di alterare questo stato poi trasformo anche la struttura del mio corpo in maniera permanente e questo è quello che accade anche con la meditazione, cioè quello stato di più profonda calma e consapevolezza che riusciamo a generare tramite la meditazione poi diventa un dato di fatto che ti porti dietro nel corso della giornata anche quando non stai meditando. Ecco la meditazione non è una cosa così difficile come può sembrare e tante persone stentano ad avvicinarsi a questa pratica perché si immaginano che sia una cosa assolutamente complessa che si può fare soltanto se si va in India, in Tibet, se si diventa monaci, no non è assolutamente così, la meditazione è una pratica piuttosto semplice in realtà, anzi forse diventa complessa perché abbiamo esasperato un po' le aspettative attorno a che cosa significa meditare e tutti possono imparare a meditare e tutti possono imparare a inserire questa tecnica all'interno delle proprie giornate. Se ti interessa imparare a meditare in maniera semplice, rapida e concreta beh hai un'opportunità, guarda nella descrizione di questo video e scopri il corso impara a meditare che ti può aiutare a raggiungere un livello di benessere interiore che magari fa veramente la differenza nella tua vita.